Bene, con grande gioia, bene con grande gioia ve la conteniamo, vogliatevi sempre bene come il sacro tramattato dai vostri avi, vogliate amarla e soprattutto seguitela, volete affidarvi veramente alla potente indefensione per avervi decisamente, per essere ascolti dall'amore di Dio, e allora siate in questo punto in questa casa di mattina, e ora siate in questo punto e ora siate in questo punto, vogliamo rive, rive un po' Grazie mille, grazie mille 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 Oh, è bebi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!